Un Un grosso incendio è divampato nella mattinata di sabato 9 settembre poco prima delle 13 in un cascinale situato a Marcenasco. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di Ivrea, San Maurizio Canavese, Nole e Volpiano. Altre probabilmente ne arriveranno. Le fiamme stanno divorando un capannone pieno di rotoballe. La grossa colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Fortunatamente il capannone è distante dal ricovero animali, non sono stati registrati feriti o intossicati. L'operazione di spendimento e bonifica, visto il considerevole numero di rotoballe all'interno del capannone, durerà ancora parecchio. L'operazione di fumo nero. L'operazione di fumo nero. L'operazione di fumo nero. L'operazione di fumo nero.